Prima ho parlato al Consigliere Penunzio, adesso parlo al Consigliere Figliomeni. Lo ricordiamo al Consigliere Figliomeni. L'Atari non aumenta, legga bene. No, lei ha interpretato malissimo, a modo suo, come voleva lei, ovviamente. Basta andare a vedere l'Atari dell'anno scorso. Guardi, l'ho detto, le mette pari e vedrà che gli importi sono leggermente inferiori, per cui l'Atari non aumenta. Va bene che siamo in campagna elettorale, però non è corretto andare a raccontare delle sciocchezze alla città. Noi ci troviamo ovviamente ad approvare questa delibera, una delibera ovviamente molto importante. Ci riteniamo che questa amministrazione abbia fatto un lavoro importante, soprattutto sui conti, l'ho detto anche prima, sui conti abbiamo risanato questa azienda, l'abbiamo risanata fino in fondo. Sono quasi 700 milioni che abbiamo inserito nei bilanci di AMA e dunque noi ci teniamo a questa azienda, come abbiamo fatto con Atac, la manteniamo pubblica, perché questo è stato il nostro impegno. È un momento di forte difficoltà, lo sappiamo bene. Qui c'è una responsabilità molto forte della Regione, che non individua i siti dove portare i rifiuti, le discariche. E dunque nel momento in cui la Regione fa il suo e individua i siti dove portare i rifiuti, e quindi a quel punto i rifiuti vengono tolti dalla città. Lo so che viene fatto anche un po' apposta per dare la colpa a questa amministrazione, ma non è carino avere questo tipo di atteggiamento e farlo pagare ai romani per un attacco di fatto politico. La maggioranza voterà a favore di questa delibera. Grazie.